ecco la guida definitiva sugli etf su bitcoin con tutto quello che devi sapere cosa sono e come funzionano quali sono i loro easing e dove si possono comprare in italia che differenza c'è tra i vari etf su bitcoin quali sono i costi e le commissioni ma in realtà faremo anche un passo indietro e capiremo dall'a alla z cos'è e come funziona un etf per sapere anche che differenza c'è tra investire direttamente in bitcoin o farlo tramite un etf alla fine di questo video insomma non avrai più alcun dubbio su questi prodotti finanziari sarà un video bello impegnativo quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito a scoprire tutto ma proprio tutto sugli etf bitcoin e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questo video un po diverso dal solito perché oggi non andiamo a fare un'analisi una ricerca un approfondimento sulle cripto ma su uno strumento finanziario tradizionale che però ovviamente è legato in questo caso a bitcoin ovvero l'etf su bitcoin ultimamente non si parla d'altro e quindi oggi andiamo a vedere tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere per comprenderne il funzionamento l'utilizzo dove lo si può acquistare e vendere insomma tutte le informazioni del caso prima di iniziare vi ricordo che se vi piacciono anche queste tipologie di guide lasciatemi un like a questo video così me ne rendo conto me lo fate sapere e so di fare anche più contenuti di questo tipo simili a questo iscrivetevi mi raccomando al canale se volete rimanere sempre sul pezzo sul mondo di bitcoin e delle cripto con nuovi contenuti ogni giorno e se invece siete nuovi nel mondo cripto siete interessati ad approfondirlo e partite da zero oppure siete comunque alla ricerca di informazioni gratuite io vi lascio in descrizione il link alla nostra piattaforma di learning gratuita che contiene un po di corsi dalle basi a quelli più avanzati proprio per comprendere e muoversi meglio in maggior consapevolezza ed autonomia in questo mondo i corsi sono in continuo aggiornamento ne continueremo ad aggiungere sempre di nuovi vi ricordo link in descrizione se vi interessa ora andiamo ad affrontare l'argomento di oggi ovvero gli etf su bitcoin partendo dalle basi ovvero dagli etf perché l'etf su bitcoin di fatto si configura come etf la categoria di strumento è questa in tanti già lo conoscono perché magari lo utilizzano lo possiedono come veicolo di investimento su altri asset che possono essere commodities materie prime come l'oro oppure l'azionario e di fatto quello che noi sappiamo da investitori è che un etf acronimo che sta per exchange traded fund come vedete in questo articolo poi tutti gli articoli che vi mostro in questo video ve li lascio in descrizione così ve li potete anche leggere con calma si tratta di un fondo per l'appunto il cui scopo è replicare la performance del suo sottostante quindi se noi parliamo di un etf sull'azionariato globale il sottostante sarà un paniere di azioni prese dai mercati di tutto il mondo pesate magari per capitalizzazione oppure per altri parametri che trovate sempre descritti in modo chiaro e comprensibile all'interno del tra virgolette foglietto illustrativo dell'etf che si chiama kid che è un documento che l'europa impone al di scrivere di condividere all'emittente dell'etf proprio al fine di renderlo comprensibile e digeribile anche da un investitore retail le motivazioni principali che hanno portato gli etf a diventare gli strumenti finanziari più popolari tra gli investitori perché di fatto sono gli strumenti più adottati a livello proprio globale sono soprattutto innanzitutto la semplicità di esporsi magari ad un'intera asset class come può essere l'azionariato americano l'azionariato globale l'azionariato di un settore oppure a un paniere di azioni con particolari caratteristiche di performance spassate ce ne sono veramente una marea se vi interessa andare a consultare un database degli etf io come sito vi consiglio justetf.com qua trovate veramente una marea di informazioni sulle categorie sulle sui singoli strumenti insomma tutto quello che potete cercare sui vari etf qui lo trovate e questo è possibile tra l'altro con commissioni molto contenute rispetto ad esempio a fondi gestiti che tendenzialmente avendo dietro un team di persone che appunto attivamente fa analisi gestisce il capitale fa le operazioni secondo appunto le loro analisi di fatto ha dei costi superiori da che poi si vanno a ripercuotere sull'investitore finale al contrario l'etf per l'appunto deve soltanto mimare il suo sottostante che può essere un indice un paniere azionario un paniere di materie prime e quindi di fatto fa soltanto operazioni di ribilanciamento proprio per rimanere ancorato al sottostante stesso inoltre cosa da non poco l'abbattimento del rischio emittente cosa significa la caratteristica principale degli etf che è ciò che lo fa differire anche da strumenti come ad esempio gli etn che sono molto diversi da un punto di vista strutturale è la completa separazione del patrimonio del fondo rispetto al patrimonio dell'emittente del gestore del fondo ovvero come vedete il patrimonio dell'etf è per legge di esclusiva proprietà dei possessori delle quote degli etf quindi di chi acquista le quote dell'investitore finale nell'ipotesi di insolvenza delle società che si occupano della gestione amministrazione e promozione del fondo il patrimonio rimane comunque tutelato proprio perché è giuridicamente separato dal fondo stesso questo comunque da un certo livello di garanzia che ad esempio gli etn non danno perché sono titoli di debito nei confronti appunto della società emittente che poi si si copre col sottostante ma comunque nel malaugurato caso di sua insolvenza e sua bancarotta ciò si ripercuote direttamente anche sull'investitore come funziona un etf quindi come fa un etf a mimare il sottostante la prima cosa che viene da pensare è vabbè lo comprerà in qualche modo lo deterrà se voi avete visto in questi giorni non si fa altro che andare a guardare quanti bitcoin ha acquistato blackrock quanti bitcoin detiene grayscale e quant'altro proprio perché comunque se un fondo deve mimare l'andamento del prezzo di un asset un'esposizione all'asset il fondo ce la deve avere ok perché di fatto al fine di rimanere anche solvibile deve detenere esattamente una pari quantità di asset rispetto cioè pari a quanto i suoi investitori vogliono come esposizione finanziaria acquistando le quote del fondo altrimenti c'è qualcosa che non torna il procedimento attraverso il quale viene fatto ciò si chiama si compone di due fasi ovvero creation e redemption sono due fasi contrapposte la creation come dice la parola stessa consiste nella creazione di nuove quote del fondo e avviene quando c'è molta domanda ovvero se tanti investitori vogliono esposizione finanziaria a quel fondo lì vogliono acquistare quote di quel fondo lì e chiaramente il fondo dovrà crearne di altre per soddisfare la domanda di tutti senza che il prezzo delle sue quote delle sue azioni diverga dal controvalore del sottostante che possiede arriviamo a questa cosa tra poco la redemption è il procedimento opposto ovvero la distruzione tra virgolette di quote al fine di nuovo di far convergere il prezzo del circolante in termini di azioni del fondo con il sottostante il sottostante si va a quantificare con un termine che si chiama nav altra parola che avrete sentito nominare molto spesso in questi giorni no in cui tutti si vanno a fare i conti vanno a fare i conti in tasca a blackrock o a grayscale andando a vedere qual è il suo nav no vediamo come varia il nav nei giorni avrete sentito questo scommetto ecco che cos'è il nav sta per net asset value e di fatto è il controvalore totale del sottostante dell'etf stesso come viene calcolato viene calcolato in questo modo al numeratore una divisione con al numeratore asset meno debiti quindi gli asset appunto posseduti il sottostante effettivo del fondo stesso diviso per il numero totale di azioni circolanti ok quindi questo esattamente fa è un po il il fair price tra virgolette il giusto prezzo di una singola azione perché tu prendi il controvalore del sottostante e lo dividi per il numero di azioni quindi ogni singola azione ha quel valore effettivo lì valore giusto il mercato a volte potrebbe preso appunto dall'eccesso di domanda dall'eccesso di offerta far divergere il prezzo effettivo dell'azione della quota dell'etf rispetto al fair price no al nav all'effettivo valore del sottostante questo ripeto perché magari c'è un giorno di particolare domanda tutti comprano 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 in fretta quasi nessuno vende e ovviamente il prezzo sale e quindi l'operazione di creation in questo caso è fatta proprio per andare a incrementare il nav incrementare il numero di azioni al fine di riuscire scusate incrementare il numero di azioni e il sottostante al fine di riportare a pari riportare a convergere il prezzo delle azioni circolanti con il nav effettivo del fondo come avviene l'operazione di creation? c'è di mezzo una terza parte un intermediario che si chiama authorized participant o ap come sigla che cosa fa l'authorized participant? di fatto lui si occupa nel caso di creation di andare a acquistare a mercato sottostante quindi nel caso di bitcoin supponiamo o di un'azione di asset x lui lo compra a mercato asset x e che cosa fa? lo dà all'etf in cambio di nuove azioni quindi l'etf andrà a creare nuove azioni che vengono date in un trade privato all'authorized participant che in cambio gli va a rimpinguare ulteriore collaterale, ulteriore sottostante che l'etf si mette nelle sue tasche, nelle sue casse e appunto l'etf eroga nuove azioni al prezzo di mercato attuale quindi se ad esempio il prezzo di mercato è superiore, non so, è a premium dell'1% l'authorized participant comprerà il sottostante al giusto prezzo lo dà all'etf, lo dà alla società che emette le quote dell'etf va ad emettere quindi le nuove quote al prezzo in premium quindi l'authorized participant opera in profitto in questo modo perché all'authorized participant vengono date le nuove quote erogate a un premium e lui le vende a mercato chiaramente a premium di nuovo e questo cosa fa? va ad abbassare il prezzo perché l'authorized participant genera pressione in vendita fino a che non si riporta a pari con il fair value, con il NAV questo avviene anche nella direzione opposta ovvero la redemption la redemption accade quando c'è più offerta che domanda e pertanto le azioni circolanti di un etf vengono scambiate a un prezzo inferiore rispetto al NAV rispetto al fair price in questo caso cosa si fa? si fa l'opposto ovvero l'authorized participant acquista delle quote dell'etf a mercato a sconto le va a dare di nuovo al creatore dell'etf gliele ridà indietro, gliele vende e in cambio l'etf gli dà il sottostante a valore di mercato e lui che cosa fa? va a vendere a mercato il sottostante e di nuovo fa profitto quindi l'authorized participant fa una sorta di arbitraggio mettiamola in questo modo volendola semplificare sia in creation che in redemption è un partecipante appunto autorizzato a fare queste operazioni in esclusiva per il gestore del fondo e sono operazioni per lui a profitto ok? quindi questo è esattamente il metodo tramite il quale si va ad accrescere o a ridurre il sottostante e il NAV di un etf ed è quello che stiamo vedendo in questi giorni infatti ci si chiede vediamo come varia il NAV e come varia il capitale gestito il collaterale il sottostante del fondo stesso per capire se c'è più domanda o più offerta un'altra cosa che si può andare a guardare anche durante il giorno per capire se c'è appunto più domanda o più offerta è se il prezzo della quota del fondo viene effettivamente scambiato a premium oppure a sconto rispetto al suo fair value ok? rispetto al suo NAV quello si può osservare ovviamente con continuità questo è il funzionamento quindi di base di un etf come funziona quali sono le sue caratteristiche abbiamo visto un po' l'ABC un'altra domanda che spesso e volentieri si fa un investitore che vuole investire in un etf è banalmente come si investe in un etf questa è una risposta molto semplice in realtà è una domanda con risposta molto molto banale ovvero qualsiasi broker o piattaforma bancaria che ti dà accesso al mercato io prima avevo aperto Fineco ma ho anche un conto con Banca Sella ma qualsiasi appunto conto bancario ormai dei giorni nostri dà accesso tranquillamente ai mercati e quindi dà la possibilità di acquistare etf a mercato le cose da tenere sotto controllo sono innanzitutto il mercato su cui viene scambiato perché bisogna abilitarsi molto spesso sul proprio conto bancario ad esempio al mercato europeo non so se scambiate sull'Oxetra all'Oxetra sui mercati americani magari vi chiedono della documentazione quindi bisogna farsi abilitare e poi attenzione ovviamente alle commissioni quelle dipendono da piattaforma a piattaforma non ci sono solo le piattaforme bancarie come Fineco, Sella e simili ma ci sono anche dei broker il cui scopo è proprio insomma per mettervi la compravendita di titoli tra cui appunto anche gli etf e anche qui ce ne sono vari se vi interessa possiamo approfondirli ma giusto per fare alcuni nomi mi viene Trade Republic mi viene DeGiro Interactive Brokers Scalable Capital ce ne sono veramente un bel po' fate attenzione ovviamente a sceglierne uno che sia regolamentato con le giuste tutele autorizzato a offrire il servizio che offre e quant'altro ecco non scegliete broker strani o broker di cui non si può verificare la legittimità questo è per il come si investe in un etf poi attenzione anche alla gestione fiscale che ovviamente sulla vostra piattaforma bancaria magari avete il regime amministrato quindi si occupa fineco di turno di andare a pagarvi le imposte mentre se utilizzate un broker dovete fare poi tramite il vostro commercialista la dichiarazione annuale e il pagamento delle imposte in maniera autonoma bene ora abbiamo capito un po' l'abc sugli etf andiamo anche a capire adesso facendo il passo successivo quello su bitcoin cioè che cos'è e come funziona un etf su bitcoin gli etf su bitcoin beh non sono altro che strumenti finanziari come quelli che non abbiamo fatto altro che descrivere ora li abbiamo appena spiegati nel dettaglio con esposizione a bitcoin questo cosa significa? significa che detengono come sottostante nei loro asset proprio bitcoin infatti se andiamo a vedere ad esempio la scheda prodotto la pagina sul sito di BlackRock del loro ibit iShares Bitcoin Trust uno dei più famosi per l'appunto etf su bitcoin tra quelli appena lanciati possiamo notare vedete giorno per giorno adesso qua poi viene col passare dei giorni viene popolato lo storico gli asset che detengono quindi al giorno d'oggi ad oggi 12 gennaio in realtà non è ad oggi è all'ultimo prima del weekend perché viene aggiornato se non sbaglio il giorno dopo la chiusura del mercato quindi questo weekend e ieri che era lunedì erano giorni festivi non ci sono dati domani probabilmente vedremo questo dato aggiornato con i dati di mercato di oggi ma potete vedere che si sono detenuti 500 circa milioni di dollari di bitcoin e un po' di cash ovviamente per operazioni di cambio e operazioni di gestione interna ogni tot non so esattamente dipende poi anche dall'emittente ogni tot viene eseguita la creation e redemption esattamente come abbiamo visto prima andando a ripopolare le loro detenzioni proprio al fine di generare nuove azioni oppure rimuovere azioni dal mercato e avere la parità di cui abbiamo discusso poco fa e quindi questo è una novità? beh sì perché qualcuno vi dirà ci sono già prodotti finanziari ad esempio in Europa che offrono un'esposizione su bitcoin come ad esempio il coin shares physical bitcoin ma ce ne sono veramente tanti se voi andate su Fineco e scrivete bitcoin ma anche su just etf se qua scriviamo bitcoin ve lo faccio vedere anche in diretta bitcoin cerca e andiamo a vedere appunto tutti i vari etf vedete che qua ad esempio ecco qua non sono ancora visualizzati quelli nuovi ma ce ne sono alcuni di quelli già disponibili però se ci fate caso qui si legge etp etc ed etn quindi non sono effettivamente degli etf ricordate quello che abbiamo detto all'inizio cioè il punto più importante di un etf è questo qua punto 5 l'abbattimento del rischio emittente la segregazione dei fondi tra il il fondo stesso quindi l'insieme di capitale che va a costituire il fondo e la società emittente il capitale della società emittente negli etn o etc che insieme fanno gli etp etn sta per exchange traded note etc exchange traded commodity ed etp exchange traded product più generico in questi altri casi è molto diverso perché se noi abbiamo un etf sull'oro qui fa l'esempio dell'oro possiedi una parte di un fondo quindi tu possiedi la quota e ricordiamo il capitale è segregato quindi il capitale del fondo è di proprietà giuridica dei detentori delle quote del fondo al contrario se abbiamo un etc o un etn noi possediamo una nota di debito quindi noi in sostanza siamo dei creditori nei confronti della società in questione che quindi ci deve in qualche modo dei soldi a tutti gli effetti l'andamento cioè il compito di questa società che emette queste note di debito è di fatto possedere il sottostante di quel fondo quindi l'effetto finale è lo stesso si ottiene esposizione finanziaria a quel fondo tuttavia in caso di insolvenza della società in questione noi siamo creditori da loro e se loro sono insolventi non sono in grado di pagare i loro debiti e quindi noi rischiamo di rimanere scoperti questo è scritto chiaramente tra l'altro se voi andate ad esempio a prenderne uno qualunque di questi etc vedete che su fineco lo cercate e qua leggete etc di fatto vi mostra che è un etc non un etf se andiamo a leggere il documento kid quello che vi dicevo prima che contiene proprio un come dire tutte le informazioni chiave il foglietto illustrativo a tutti gli effetti del fondo stesso viene spiegato viene spiegato del titolo finanziario scusate viene spiegato tutto e all'interno della pagina dedicata ai rischi vedete cosa accade se coin shares non è in grado di corrispondere quanto dovuto e qui vi spiega che nel caso di insolvenza da parte dell'emittente i suoi asset ovviamente vengono venduti c'è il processo di liquidazione per recuperare fondi per i creditori tuttavia potreste non essere in grado di realizzare il valore pieno dei vostri titoli potreste subire una perdita del vostro investimento è possibile una perdita totale del capitale perché dice che i proventi liquidi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutti gli obblighi e effettuare tutti i pagamenti in rapporto ai titoli quindi di fatto c'è un rischio legato all'emittente cosa che negli etf non c'è più questo non è indifferente da un punto di vista di rischio per l'investitore ed è il motivo per cui gli etf sono uno strumento di livello superiore da questo punto di vista agli etp e agli scusate agli etc e agli etn tra l'altro etc ed etn solitamente hanno anche dei costi superiori proprio perché c'è una maggior attività diretta da parte della società emittente che deve effettuare più operazioni finanziarie e questo si traduce in commissioni più alte per l'utente finale infatti se andiamo a confrontare le commissioni annue di un etc di un etp scusate della vecchia scuola su bitcoin rispetto ai nuovi etf c'è una differenza assolutamente abissale bene quindi spero che sia chiaro questo e adesso andiamo a vedere la differenza invece tra i vari etf bitcoin io vi consiglio questo sito guardate coin glass che ha aggiunto la sezione etf è veramente un portale di dati pazzesco per le cripto e come vedete qua questo è dedicato a tracciare vari dati di tutti gli etf bitcoin attualmente disponibili e circolanti sono divisi in due spot e futures anche qua c'è da fare una differenza ovvero gli etf spot significa che detengono bitcoin fisici tra virgolette abbiamo visto che i shares bitcoin trust detiene ad esempio 500 milioni di dollari di bitcoin al contrario gli etf futures con sottostante futures detengono per l'appunto dei derivati come sottostante quindi l'authorized participant è lo stesso procedimento di creation e redemption che abbiamo spiegato prima viene fatto però con dei derivati e questo infatti non impatta direttamente sull'asset sottostante sul mercato di asset sottostante perché vengono comprati derivati nello specifico i futures del cme che sono i futures su bitcoin col mercato più grande negli stati uniti e questo è anche stato un po' il grosso step in avanti proprio dato dal lancio degli etf spot perché sono strumenti che detengono il vero sottostante non un prodotto derivato come vedete c'è anche una bella differenza tra uno e l'altro in termini di innanzitutto commissioni è la prima cosa che salta all'occhio noi possiamo andarli a mettere in ordine abbiamo grayscale che è un famoso che prima era un trust quindi un fondo privato che adesso è diventato un etf quotato sul non mi ricordo su quale mercato qua non lo fa neanche vedere però dovrei avere l'informazione in un'altra tab adesso vi mostro anche quello comunque come vedete loro hanno una fee dell'1,5% e sono un po' gli outlier in termini di fee perché come vedete gli altri hanno fee molto basse dallo 0,2 allo 0,4% così giusto per darvi un confronto se noi andiamo a vedere gli etf più comuni ad esempio l'etf sempre di BlackRock iShares World sull'azionario globale noi possiamo andare a vedere che il suo TER che è la commissione annua è dello 0,2% ok quindi l'etf su bitcoin di BlackRock quindi sempre quello iShares è dello 0,25% attualmente è scontata allo 0,12% però di base sarà dello 0,25% quindi solo di uno 0,05% in più rispetto a un etf tra i più famosi e diffusi al mondo quindi commissioni veramente basse veramente competitive questa è una delle differenze l'altra differenza sta nell'emittente issuer come vedete appunto iShares Bitcoin Trust è erogato da BlackRock poi c'è quello di VanEck Valkyrie 21Shares eccetera eccetera ognuno ovviamente ha il suo emittente ognuno avrà il suo custodian che è il sito dove vengono custoditi i bitcoin che fanno parte del sottostante ora che abbiamo capito il procedimento di creation e redemption vedete il custodian può variare un'altra cosa che può variare è il dunque qui che cosa abbiamo beh di nuovo ecco qui l'exchange dove è scambiato vedete che alcuni sono scambiati sul New York Stock Exchange alcuni sul CBOI alcuni sul Nasdaq e quindi niente è banalmente un mercato differente il custodian lo abbiamo visto e anche l'authorized participant vedete adesso qua alcuni questo screenshot è vecchio quindi alcuni non sono ancora compilati però vedete che c'è Jane Street JP Morgan che ricordiamo che diceva parlava peste e corna di bitcoin poi quando può fare la P che adesso abbiamo visto è un'operazione che viene fatta per profitto o guarda caso compare JP Morgan negli etf bitcoin vabbè e queste sono le principali differenze tra l'uno e l'altro poi di fatto da un punto di vista di dati di mercato anche lì ci possono essere differenze non da poco quindi sui volumi sull'AOM che è il controvalore totale degli asset gestiti il NAV è un derivato dell'AOM è l'AOM diviso per il numero di shares ricordiamocelo e quindi di fatto questi questi sono i dati quale conviene scegliere beh tendenzialmente si va a scegliere quello con un emittente noto conosciuto e quindi solido come può essere per l'appunto BlackRock ma tra questi primi diciamo proposers di etf sono tutti nomi abbastanza no quasi tutti nomi abbastanza noti poi si va a vedere chi ha un'AOM maggiore perché comunque è un fondo già più più stabilito più più conosciuto un volume maggiore che solitamente comporta maggior liquidità anche sugli order book e quindi la possibilità di comprare magari fare anche operazioni più grosse impattando meno sul prezzo e poi ovviamente si va a guardare la commissione perché chiaramente se posso scegliere tra il pagare l'uno e mezzo annuo o lo 0 e 2 qualcosa mi dice che sceglierò lo 0 e 2 ok quindi questa è un po' la scelta che si può fare nell'andare a decidere su quali etf operare che differenza c'è qualcuno ha chiesto tra l'investire in bitcoin spot e l'investire in etf su bitcoin questa domanda ha una risposta altrettanto semplice cioè investire in bitcoin spot chiaramente se lo sai fare è meglio nel senso che tu detieni bitcoin quindi diciamo hai tutto il discorso della non confiscabilità non avere intermediari che è il motivo per cui è nato bitcoin quindi chiaramente se uno vuole tastare con mano tutto questo non è che sta a comprare etf compra bitcoin e li detiene sul suo wallet con le sue chiavi private ma questo comporta dei rischi lo sappiamo molto bene rischio di custodia cioè la conservazione corretta della seed phrase non perderla non farsela fregare e quant'altro oppure anche banalmente un discorso di rendicontazione no come ben sapete ci sono un sacco c'è un sacco di nebbia sulla fiscalità cripto su bitcoin e quindi magari uno non vuole andare a correre tutti questi rischi vuole banalmente un'esposizione finanziaria su bitcoin vuole un regime amministrato magari dove la banca gli paga le tasse lui non si deve fare menate non vuole starsi ad addossare la responsabilità della custodia e quindi compra l'etf queste sono un po' le due strade detenzione del bitcoin vero oppure pura esposizione finanziaria in base a che cosa si desidera si va a scegliere uno strumento oppure l'altro ognuno ha i suoi pro e i suoi contro quali sono gli easing degli etf su bitcoin allora anche in questo caso se voi li andate a cercare su un qualsiasi su un qualsiasi portale come può essere per l'appunto fineco e altri voi banalmente scrivete bitcoin vi compare l'elenco e anche per i nuovi in realtà adesso qui c'è coinshares che è un etc ma voi se anche andate a cercare quello di blackrock voi qua vedrete l'easing quindi io quello che vi consiglio di fare è tenere come riferimento questo elenco dove avete il ticker voi tramite il ticker lo andate a cercare scrivete ad esempio gbtc sul vostro broker o sulla vostra banca ve lo va a trovare e banalmente andate a recuperare se vi interessa l'easing che comunque è un dato sempre disponibile ok quindi ci sono già gli easing ovviamente per tutti io vi consiglio di partire dal ticker che qua avete già tutto un bel una bella tabellina fatta e pronta e poi appunto scrivete ibit e leggete i shares bitcoin trust è lui ok quindi non c'è nessun tipo di dubbio un'altra cosa ecco che mi stavo dimenticando come mai i prezzi sono diversi cioè guardate ognuno di essi ha un prezzo diverso per quale ragione questo in realtà è una decisione interna dell'emittente che decide quante azioni emettere ok quindi uno può dire io emetto tantissime azioni e il prezzo per azione scende oppure emetto meno azioni e il prezzo sale ma questo ovviamente non cambia l'esposizione finanziaria che si ha sul sottostante cioè se io acquisto mille dollari che sia di GBTC o che sia di Fidelity o di BlackRock del trust io alla fine ho sempre quell'esposizione finanziaria lì su bitcoin non è che una me ne dà di più o una me ne dà di meno ok io sto investendo quel capitale e quella è la mia esposizione finanziaria su bitcoin il prezzo cambia semplicemente perché comprerò più o meno shares con mille dollari se le compro ad esempio del wisdom tree ne comprerò un po' meno che se le compro di quello Valkyrie che ne comprerò di più ma io alla fine sempre mille dollari di esposizione finanziaria ho su bitcoin ok questo è un altro punto importante altra cosa altra domanda molto frequente si può comprare in Italia il famigerato etf su bitcoin la risposta mi spiace ma per il momento sottolineo per il momento è no per quale ragione guardate se noi andiamo ad esempio su Fineco e proviamo a portare a termine un ordine che ne so proviamo a comprare 10 shares vedete da 2467 l'una 246 dollari inserisco il mio pin e faccio compra come vedete qua mi dice operatività in acquisto sospesa per mancanza della documentazione non c'è il kid cosa vuol dire questo vuol dire che al fine di permettere all'utente retail di acquistare un etf ancora incompleto da un punto di vista della documentazione non si può cioè no volevo dire che al fine che un retail possa acquistare un etf deve esserci tutta la documentazione a corredo tra cui il kid che per capirci era questo fogliettino qua che ti spiega le informazioni chiave kid sta proprio per key information document una roba del genere e dove ti spiega bene i rischi come funziona eccetera 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 che è uno standard imposto dalla normativa MIFID europea che per l'appunto per tutelare l'investitore per dare più consapevolezza all'investitore impone prima di permettere al retail quindi a quello piccolino non professionista di operare su strumenti finanziari impone appunto al broker e all'emittente di dover erogare questo documento per per poter uscire anche dal mercato professionale arrivare anche all'investitore retail l'operatività è consentita solo alla clientela classificata professionale su strumenti di risparmio amministrato o a titolo generale quindi come vedete è uno strumento che al momento viene concesso soltanto su una clientela professionale quindi niente da fare per noi poveri retail c'è soltanto ci sono soltanto gli etp ok quelli che abbiamo visto prima con i rischi che abbiamo visto prima quindi legati anche all'insolvenza di etp non ce ne sono pochi insomma vi ho fatto vedere qua ne sono mostrati alcuni su just etf come vi dicevo hanno dei costi di gestione tendenzialmente un po' più alti ad eccezione di alcuni però poi c'è da capire appunto tutti gli altri parametri ecco e poi ricordo il rischio legato all'emittente quindi adesso aspettiamo vediamo se erogheranno il famigerato kid e se quindi poi ci sarà in futuro la possibilità anche per i clienti gli investitori europei di accedere a questi strumenti finanziari altrimenti c'è il bitcoin spot ragazzi cosa ve lo dico a fare però prima imparatelo studiatelo bene mi raccomando e ragazzi questo è quanto direi abbiamo fatto una disamina completa spero di avervi fatto capire con sufficiente chiarezza scusate se ho sorvolato su alcune cose o sono stato un po' magari superficiale ma l'obiettivo non era far la lezione universitaria di finanza sugli etf ma proprio di farvi capire come funzionano capire le basi mi auguro di cuore di esserci riuscito se avete dubbi o domande non esitate a farle nei commenti io per il momento vi faccio davvero un carissimo saluto e alla prossima e mi raccomando teniamo d'occhio questi strumenti che sono molto interessanti ciao a tutti grazie a tutti